Le elezioni regionali di ottobre accendono i riflettori sullo scalo di Comiso, che da dimenticato diventa improvvisamente al centro delle priorità di candidati alla presidenza come per il Parlamento regionale. Il candidato di Selle IDV, Claudio Fava, chiede di convocare dopo le elezioni un'immediata conferenza di servizi con l'ENAC e l'ENAV, l'ente di gestione dell'aeroporto, per far partire lo scalo di Comiso entro l'anno. Quello di PD e UDC, Rosario Crocetta, scrive al Premier Monti per chiedere un suo intervento, volto a sbloccare la situazione e impedire l'ennesima azione a danno della Sicilia. Sulla vicenda interviene persino Giovanni Mauro, di Grande Sud, che parla di ulteriore fallimento per la provincia di Ragusa. Con il nuovo governo, dice Mauro, si dovranno modificare i termini di accordo con il ministro Passera per ottenere la riclassificazione adeguata del sito aeroportuale. Ma non sono però solo i candidati a intervenire nella questione. Di vicenda incredibile parla anche il senatore PD, Enzo Bianco, per il quale, se questa può essere la via più breve per aprire lo scalo ed evitare la restituzione dei fondi all'Unione Europea, si percorra questa strada in attesa di altre soluzioni. Non possiamo aggiungere al danno anche la beffa. Bianco annuncia che insieme al gruppo dei parlamentari siciliani farà ulteriormente presente la problematica al ministro per la coesione territoriale.